Per quanto riguarda il problema dell'immigrazione, lo vediamo tutti i giorni. Siamo di fronte a un evento epocale, di fronte a un evento biblico, sono parole non mie ma usate dal Presidente della Repubblica, da Sua Santità Papa Francesco. Di fronte a questa umana sofferenza il sistema Italia, il sistema paese, sta facendo veramente tanto. E speriamo che l'esempio dell'Italia possa essere seguito dagli altri paesi europei, ma come si dice oggi, dal mondo, perché siamo di fronte a un movimento di centinaia, di migliaia di esseri umani che fuggono e se fuggono mettendo a rischio la propria vita per attraversare il mare è certamente perché sono certi che rimanendo dove sono, sono destinati a morire. In questi mesi dell'anno, primi mesi dell'anno, abbiamo una grossa presenza nelle operazioni di soccorso di persone salvate, di bambini. E anche questo è un altro fenomeno che la dice lunga sulla tragedia che sta coinvolgendo l'intero continente africano o quasi l'intero continente africano, nonché i paesi a est del continente africano. Bisogna assolutamente intervenire in massa. È un problema che, ripeto, il sistema paese sta affrontando con tutte le sue competenze in maniera eroica. A mare, per quanto riguarda l'attività di soccorso coordinata dalla Guardia Costiera ma che vede la partecipazione dei mercantili, pescherecci, rimorchiatori in assistenza alle piattaforme davanti alla Libia, le unità delle forze di polizia, la marina militare, i mezzi militari dell'Europa presenti in teatro. È un sistema enorme che sta dando una bella risposta. Ammiraglio, i vostri uomini sono in prima linea, sono coloro i quali soccorrono innanzitutto questi disperati che rischiano la propria vita soltanto per una speranza, per avere una speranza. Ma ai tavoli europei, le vostre richieste vengono accolte, c'è dialogo o l'Europa semplicemente pagando una somma pensa di poter risolvere il problema? Si sono resi conto della gravità? Mi sembra che anche questo sia abbastanza evidente, che il governo e in particolare col suo Presidente del Consiglio non fa altro che ribadire questo concetto, anche al G7 è stato ribadito dal Presidente del Consiglio della necessità di un intervento globale perché il fenomeno è un fenomeno globale.